Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Mancini, svolgo l'attività di apicoltura ormai da parecchi anni, dal 2000 che abbiamo iniziato questo tipo di attività. Siamo qui nella villa Bozzolo, dove abbiamo questi alveari presenti qui da diversi anni, con una collaborazione iniziata appunto con il FAI nel 2018 nel monastero di Torba, quindi è stata la prima la prima esperienza che abbiamo fatto, che poi ci siamo spostati anche a Villa Panza, poi a Casamacchi e a Villa Balbianello. Oggi appunto siamo qua a questa bellissima villa a Bozzolo, dove abbiamo le api che stanno raccogliendo la fioritura del ciliegio, quindi come tutti gli anni speriamo di rifare un bel raccolto in maniera tale da appunto poter offrire questo bellissimo miele, buonissimo miele ai visitatori del FAI. Una caratteristica devo dire molto importante di avere le api presenti nel bene del FAI è che comunque hanno un'attenzione molto elevata alla biodiversità, quindi anche nei loro giardini tutto quello che viene messo piantumato da pianti, cespugli, alberi, viene ricercata per offrire appunto alle api un maggior benessere, quindi piante che diano dei fiori, che diano del nettero, del polline alle api. Questo è molto importante e qui nel FAI in generale, nei tutti i beni in cui abbiamo le api, quindi questa attenzione c'è e poi soprattutto anche il contesto dove comunque le mette a riparo da inquinamento, da rumori, di disturbi e loro hanno proprio le condizioni migliori per poter lavorare e esprimersi al meglio. Quindi questo permette anche di avere maggiori soddisfazioni, perché per noi apicultori la soddisfazione è molto importante essendo comunque il nostro valore aggiunto le api, perché senza le api non potremmo neanche fare della produzione e quindi anche del reddito, è quello del benessere appunto di questi animali qui. Però poi chiaramente ci sono anche le problematiche, quindi che sono sostanzialmente legate al clima, quindi il cambiamento climatico, quindi dal freddo al troppo caldo, alle piogge, alla seccità, quindi questo qui complica chiaramente la gestione degli alveari e lì poi diventa un lavoro un pochino più di esperienza, riuscire a gestire gli alveari appunto per farli stare il meglio possibile. Però detto questo abbiamo fatto anche delle bellissime cose qui, come anche negli altri beni, dove raccogliamo in primavera questa fioritura del ciliegio che dà luogo a un miele molto profumato, molto fruttato ed è super ricercato. Poi abbiamo la fioritura della rubigna che arriva a breve, quindi a maggio, fino ad aprile, inizio maggio, dove darà questo miele appunto l'acacia, anche lui molto delicato, molto profumato, molto ricercato e infine poi qui a giugno abbiamo un'esplosione dei castagni dove raccogliamo questo appunto miele che è veramente eccezionale. Castagna come lo facciamo qui in Villa Bozzolo? Difficilmente lo facciamo in altri posti perché ha delle caratteristiche veramente quasi uniche, insomma.